una pace incrollabile una volta stavo in un monastero della foresta distante poco meno di un chilometro da un villaggio una sera sul tardi i paesani festeggiavano e stavano facendo molto chiasso mentre io praticavo la meditazione camminata dovevano essere circa le 11 di sera e mi sentivo un po strano già da mezzogiorno avevo questa strana sensazione la mente era quieta quasi senza pensieri mi sentivo rilassato e completamente a mio agio continuai a fare meditazione camminata fino a che mi senti stanco allora andai a sedermi nella capanna con il tetto di pagna mi stavo sedendo quando in modo sorprendente senza neppure avere il tempo di incrociare le gambe la mia mente sentì il bisogno di immergersi in uno stato di profonda pace tutto avvenne per conto suo appena seduto la mente divenne completamente tranquilla era solida come una roccia non è che non sentissi i canti e la musica dei paesani potevo sentirli ma potevo anche completamente chiudere fuori la percezione del suono era strano se non facevo attenzione al suono c'era una pace perfetta non sentivo niente ma se volevo sentire lo potevo fare e non mi disturbava affatto era come se nella mia mente ci fossero due oggetti vicini che però non si toccavano potevo constatare che la mente e il suo oggetto di consapevolezza erano separati e distinti proprio come questa sputtacchiera e quel bricco dell'acqua poi compresi quando la mente è in samadhi se dirigete l'attenzione verso l'esterno potete udire i suoni ma se la lasciate dimorare nella sua vacuità allora è perfettamente silenziosa quando il suono veniva percepito potevo vedere che il conoscere il suono erano completamente diversi iniziai a riflettere se non fosse così com'è in che altro modo potrebbe essere è così che era le due cose erano completamente separate continuai ad indagare in questo modo fino a che la mia comprensione si approfondì ancora di più ah questo sì che era importante quando si interrompe l'apparente continuità dei fenomeni vi è solo pace la precedente illusione di continuità santati si era trasformata in pace mentale santi così continuai a meditare mettendoci un grande sforzo in quel momento la mente era concentrata solo sulla meditazione indifferente a tutto il resto se a quel punto avessi smesso di meditare sarebbe stato solo perché l'avevo completata potevo prendermela con calma ma non per pigrizia stanchezza o noia niente affatto tutto ciò era assente dal cuore c'era solo un equilibrio interiore perfetto e infine feci una pausa ma fu solo la postura esterna che cambiò e il cuore rimase fermo immobile infaticabile avevo l'intenzione di riposare per cui presi un cuscino mentre mi piegavo la mente rimase calma come prima poi proprio mentre la testa toccava il cuscino la consapevolezza della mente cominciò a fluire verso l'interno non sapevo dove andasse continuava a scorrere sempre più in profondità era come una corrente elettrica che passava attraverso un cavo fino all'interruttore quando raggiunse l'interruttore e il corpo esplose con un boato assordante durante tutto ciò la conoscenza era perfettamente lucida e sottile una volta passato quel punto la mente fu libera di penetrare profondamente dentro arrivò fino a un punto in cui non c'era assolutamente niente nessuna cosa del mondo esteriore avrebbe potuto penetrare qui niente avrebbe potuto raggiungerlo rimase un po così dentro poi la mente si ritirò per scorrere di nuovo fuori quando però dico che si ritirò non intendo dire che la feci defluire io ero soltanto un osservatore un testimone che conosceva la mente uscì sempre di più fino a che ritornò normale appena riprese il mio solito stato di coscienza mi domandai cosa è successo subito giunse la risposta queste cose avvengono per i fatti loro non devi cercare alcuna spiegazione la mente rimase soddisfatta di questa risposta dopo un po la mente cominciò a fluire di nuovo verso l'interno non facevo nessuno sforzo cosciente per dirigere la mente fece tutto da sola mentre si muoveva sempre più profondamente all'interno ad un tratto toccò di nuovo quell'interruttore questa volta il mio corpo esplose in un'infinità di minuscole particelle di nuovo la mente fu libera di penetrare profondamente dentro se stessa silenzio assoluto era andata ancora più in profondità di prima assolutamente nessuna cosa esterna poteva raggiungerla la mente rimase lì per un po per il tempo che volle e poi si ritirò e rifluì fuori seguiva un suo impulso e tutto avveniva da sé io non influenzavo né dirigevo la mente in alcun modo non la facevo fluire dentro né la ritraevo fuori io conoscevo e guardavo soltanto di nuovo la mente ritornò al suo normale stato di coscienza e io non mi chiesi né pensai a ciò che era accaduto mentre meditavo una volta ancora la mente si volse verso l'interno questa volta l'intero cosmo esplose e si disintegrò in minutissime particelle la terra il suolo le montagne i campi e le foreste tutto il mondo si disintegrò nell'elemento spazio la gente era sparita tutto era sparito questa terza volta non rimase assolutamente nulla la mente rivolta all'interno rimase lì per quanto tempo volle non posso dire che capisco esattamente in che modo vi rimase è difficile descrivere ciò che accadde non vi sono termini di paragone a cui riferirmi nessuna similitudine calzante questa volta la mente rimase all'interno per un tempo molto più lungo e venne fuori da quello stato dopo un bel po' quando dissi che ne uscì non intendo dire che la fecci uscire io o che stavo controllando ciò che avveniva la mente fece tutto da sola io ero soltanto un osservatore alla fine ritornò nuovamente al suo stato di coscienza normale come descrivere ciò che avvenne per tre volte chi può saperlo che termini si potrebbero usare per descriverlo ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita condividi nei commenti la tua esperienza metti mi piace e iscriviti al canale di doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo nel prossimo video